boom wow jd hai preso la medaglia la seconda medaglia la potrei conquistare a evopoli purtroppo però per attraversare il percorso 207 ti serve una bicicletta comunque ho fatto lottare la mia squadra ora è molto più forte allora io ritorno a giubiloboli prossimo obiettivo la medaglia della palestra di evo poli 10 secondi al lancio 9 va chi ha tempo per il conto alla rovescia quindi dobbiamo andare evo poli però per dobbiamo passare da giubiloboli let's go che vuole questa ora per festeggiare la mia presenza in questa grotta ti sfiderò dobbiamo sfidarla per forza non penso possa fu posso fuggire vabbè siamo 3 contro 2 dai alla faccia te non è molto efficace essere efficace che gli combinavo acquisto che vuole questa ora ottenuto una medaglia stupenda del capo palestra di mineropoli parte la sfida di simona pupa siamo ancora di sassata che lo finisco ok bye bye biduf il professore a jedi gamer un tempismo perfetto come sempre queste canaie fanno dei discorsi assurdi le loro parole non mi vanno giù insegna loro le buone maniere ti prego uomo misterioso o prof pokemon non faccia tanto il difficile da uomo d'affari a uomo d'affari ci fornisca i risultati delle sue ricerche in cambio noi lasceremo in pace i suoi assistenti cd gamer lottiamo insieme e diamo una bella lezione a questi delinquenti a un 2 vis 2 parte la sfida di recluta galassia e recluta galassia turno di zubat mandato in campo da recluta galassia turno di warpol mandato in campo da recluta galassia livello 9 livello 9 turno di da tartwick mandato in campo vai cerino lotto e uso pugno rapido su zubat vai vediamo se efficace no ho sbagliato allora mi ricorda qualcosa però non ero sicuro che fosse efficace su zubat però ho rischiato vabbè non è efficace anzi super efficace gli ha tolto così poco buono non male oh stanno attaccando tutti i tartwick poverino almeno mi stanno proprio pensando prova ad attaccare warpol se warpol non è meno efficace su di lui allora cambio pokemon lotta ancora pugno rapido su warpol war non so se si pronuncia così pugno rapido eh questo si e questo si questo ha fatto male alla faccia non è il non è efficace mamma mia che difesa cerino ma però l'abbiamo fatto fuori warpol è fuori cerino riceve cento tre punti esperienza il veleno ha effetto su tartwick ah gli sta rosicchiando energia allora io voglio cambiare vai granito scelgo di voglio vedere se granito è più efficace e io non me li ricordo quali pokemon i tipi quali sono efficaci su quegli altri non lo vedo da 106 anni pokemon tartwick resisti buono 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 vai con sassata adesso tu batto ovviamente no ottimo è super efficace cerino riceve 51 punti esperienza granito riceve 51 punti esperienza hai avuto la meglio su recluta galassia recluta galassia ma com'è possibile da quando è qua perdiamo contro i bambini noi due non funzionerà è ora di ritirarsi questa missione è un fallimento gd gamer vince 720 euro buono buono non abbiamo altra scelta per ora ci ritiriamo ce ne andiamo il team galassia sarà clemente questa volta quei mani ingoldi si fanno chiamare team galassia quando si evolvono i pokemon sprigionano dell'energia un'energia misteriosa e per noi incontrollabile mi pare che il team galassia la voglia sfruttare per qualche bieco fine comunque ben fatto jd sei molto abile nella lotta guardando voi allenatori lottare fianco a fianco con i pokemon beh mi rendo conto di aver fatto bene ad affidarvi il pokédex lo sapevi jd gamer il professore studia anche l'evoluzione dei pokemon secondo le sue ricerche circa il 90% della specie di pokemon può evolversi ci devono essere dei pokemon che si evolvono in modo strabiliante allora jd continuiamo a darci da fare con il pokédex del professore beh si lo sapevo perchè comunque il mio pokemon principale si è evoluto chi è questo? oh perfetto fantastico veramente eccezionale scusa io sono della giubilio tv mi hai fatto assistere a una lotta straordinaria vorrei darti qualcosa oh che mi dai che mi dai ottiene scatola chic mette scatola chic nella tasca strumenti e cos'è? in quella scatola chic troverai una vasta gamma di accessori e sfondi vesti i tuoi pokemon e valorizzi il loro aspetto oh interessante al momento l'emittente televisiva mette a disposizione i propri locali ai visitatori perchè prepari nei pokemon ci sono anche dei premi in palio fai un salto all'emittente televisiva ok allora voglio andare prima a curare ovviamente sempre i miei pokemon mio padre mi ha dato dei pokemon che vinceranno per me quindi altro duello e se ne va a cappò anche starley vinciamo 80 euro buoni 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 è una roccia dura ma un pokemon dovrebbe poterla frantumare eh e come faccio ad utilizzare quel pokemon scusate insegno al granito non l'avevo fatta imparare ecco perchè ma conosce già quattro mosse vuoi cancellare una mossa e sostituirla con spaccaroccia? sì quale mossa vuoi che dimentichi e quale faccio dimenticare? tutti i muscoli del corpo dovrebbero aumentare la difesa lega tutto stridio no sassata e l'unica ah spaccaroccia colpisce il nemico con un pugno devastante può anche frantumare rocce crepate che però mi porta che sassata è più forte quindi io gli tolgo gli tolgo rafforzature dai magari starò sbagliando però mi sento di togliere quello ecco fatto c'entra qualcosa ah ecco qua stavo già da prima ma così riesco di nuovo e vado qua no? o no si era aperto un altro passaggio un'altra che mi vuol sfidare lo diamo in questa atmosfera che profuma di fiori però adesso lo finisco con sassata uh livellato sale a livello 11 vince 224 euro buono buono datemi che me li prendo e come passo di qua? devo passare nell'erba dovrò sfidare pure a questo no? ah no percorso giardino fiorito ecco dove devo andare le due gemelle qua che ne dici le ha? diamo una lezioncina a questo allenatore siamo le più forti non ci batte in su ma dove volete andare? le gemelle Olsen le gemelle Olsen l'ILEA Pachirisu e Pachirisu e chi su Pachirisu? livello 9 azz granito e starley ma io volevo cerino vabbè lotta vai disassata su uno un Pachirisu tanto è uguale facciamo attacco rapido ma basta basta cerino ah no per un pizzico si è sopravvissuto che culo ma dovrei finire granito fallisce addirittura andiamo di Braciere stavolta è ancora sassata ma non dovrebbe essere necessario la sassata di granito vai Braciere brutto colpo vai K.O. granito riceve 115 punti esperienza Cerino riceve 115 punti esperienza hai avuto la meglio sull'ILEA gemelle oh oh ma aspetta un attimo JDGamer vince 288 euro buono eh te pareva che non beccavo il pokemon vediamo chi è non mi interessa un'altra volta lui fuga ok ok sono arrivato a giardino fiorito quindi io mi fermerei per ora curerò poi i pokemon vado a curare i pokemon quindi mentre curo i pokemon io vi do appuntamento al prossimo episodio per oggi è tutto iscrivetevi al canale cerchiamo di arrivare a 400 iscritti possiamo farcela lasciate un mi piace attivate la campanella per non perdere i prossimi video bye bye